Una scelta importante è quella di candidarsi come sindaco di Costa, come mai? Sì, dopo l'esperienza di questi dieci anni come assessore nella lista di Antonio Bombonato ho deciso con grande emozione ma anche grande responsabilità di intraprendere questa avventura e di impegnarmi ulteriormente per il mio paese come candidato sindaco. Ecco, la lista è già pronta? State lavorando? Stiamo lavorando in fase di definizione, sarà sicuramente un cambiamento per il paese perché ci saranno delle persone nuove ma anche è la lista in continuità con l'amministrazione uscente. Quindi comunque seguirai le linee seguite proprio in questi anni a Costa? Sì, io ho imparato diciamo così all'amministrazione al fianco del sindaco Bombonato e quindi è una lista in continuità con la sua, tant'è che presentiamo anche il simbolo oggi e manteniamo lo slogan Uniti per Costa ma abbiamo rivisto graficamente il logo che presenta non più un ponte di mattoni ma un ponte fatto di persone, bambini, uomini, donne e con un sole dietro che vuole indicare insomma un nuovo percorso, una nuova pagina di costa che speriamo che i nostri elettori apprezzino. Grazie mille Grazie